E questa è la galleria dove finisce l'incrocio tra Lazio e Campania e comincia il Molisee. Si entra in galleria e si entra in un altro mondo. Pronti? Il Molisee ha meno 4, meno 3, meno 2, meno 1 e siamo in Molisee. E sono sparite le abitazioni, non ce n'è traccia. Gente che vende gli asparagi per strada, il loro telecamera, mi dico. Queste sono strade e lì sopra c'è una chiesetta migrevale ristrutturata incredibilmente. Invece questo coso è 70 anni. Se sto coglione si leva, se non si leva lo supero. Queste sono le montagne. Come potete notare anche in Molisee ci sono le strisce pedonali a trotta ferrata. Ma non ce n'è una. Addirittura si sono sbagliati e ne hanno messo una seconda. Forse Molisee è a statuto speciale, non so che dirvi. Niente. Strisce pedonali illegali, una continuazione. Passeggino sulle strisce pedonali si fermano tutti quanti. Anche queste sono rosse. Ci rifermiamo pure noi. Niente. Proprio sono sovversivi molisani e non ci vogliono stare al codice della strada e mettono le strisce pedonali bianche e rosse, quelle sicure. Ma vietate a drogna. Niente. Questi proprio non si stanno a regolare con le strisce. Non c'è addirittura l'aggravanti. Eh, un'altra e non se ne vò più, eh. Che diranno a Cortaterrada? Cara raggi, questi ci fregano il Grand Prix. Non c'è niente da fare. Guarda che strade. Nonostante l'asfalto del 1974, qua si può fare benissimo il Grand Prix di Formula 1, altro che R. e ci sono pure le male eoliche che fanno così incazzare scarbi e gli fanno venire gli attacchi di parico. a noi le gallerie ci piacciono così, senza corsie di emergenza, ma con i semafori. che è il passaggio. Viva il Molise. Cara raggi, guarda che asfalto mi sa che questo è il Grand Prix di Formula 1e. nonostante che questo asfalto credo che sia del 1974 di quando sono nato io e siamo arrivati alla curva Fred Bongusto che si prende a 33 giri giri motore bene stiamo aggiungendo quest'altra curva a destra che è la curva Aldo Biscardi anche se il panorama è un po' in contrasto con il nome ma una volta qui c'erano i papaveri rossi grande Whatsapp grazie Whatsapp grazie a tutti 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 grazie a tutti